A San Polo sta prendendo corpo l'idea di formare un comitato a sostegno di Sandro Mugnai, l'artigiano che sparò al vicino di casa che gli stava demolendo l'abitazione con un escavatore, uccidendolo. Tra i promotori, Don Natale e Gabrielli, parroco della comunità, che fin dall'inizio ha espresso solidarietà nei confronti di Mugnai. Un uomo non violento, anzi molto rispettoso, attento, siamo lavoratori, onesto, non mi lavoro. Mugnai adesso rischia un nuovo processo, quello per omicidio volontario, dopo quello per eccesso col posto di legittima difesa. L'avviso di conclusione indagine è già stato recapitato, resta da fissare la data dell'udienza preliminare. L'omicidio volontario significa l'intenzione e la volontà di uccidere. Se questo è il caso, sfido molti dei miei colleghi a ritenerlo tale. Poi il giudice ha ritenuto in questa maniera e noi ci difenderemo in tutte le sedie. Non è che ci difenderemo in primo grado, ma arriveremo in Cassazione anche oltre se fosse necessario. Speriamo non lo sia. La tragedia nella sera dell'epifania del 2023, quando Gesim Dodoli con la benna della ruspa iniziò a colpire la casa dopo aver travolto alcune auto. A quel punto Mugnai imbracciò il fucilio e fece fuoco uccidendolo. L'artigiano, come ribadito ai nostri microfoni, ha sempre dichiarato di aver agito per difendere la sua famiglia che si trovava all'interno dell'abitazione. Io non mi sento un assassino, non mi sento bene comunque perché alla fine è sempre una persona, era una persona. Però, ripeto, non è che l'ho fatto per farglielo, l'ho fatto perché mi ha costretto a farlo. Di cosa avevate paura voi? Nella nostra vita si è avuto paura perché. Indubbiamente se ti cade da su dentro non è che ci si trova bene lì sotto. Grazie a tutti.